Ciao e benvenuto dal nostro team. La lezione di oggi vuole svelarti quali sono i 5 metodi che puoi utilizzare sin da subito per riprogrammare il tuo inconscio. Quello che molte persone non capiscono è che ognuno di noi ha già riprogrammato il proprio inconscio centinaia e centinaia di volte e continua a farlo ogni giorno. Ti faccio degli esempi. Se quando eri piccolo credevi a Babbo Natale e oggi non ci credi più, vuol dire che hai cambiato il contenuto che c'è nel tuo inconscio in quanto sei proprio andato a modificare le azioni che facevi a Natale. Prima scrivevi la letterina e adesso non lo fai più. Quindi hai riprogrammato il tuo inconscio. La maggior parte delle volte però accade in maniera non voluta, nel senso non cosciente. Una persona cambia il contenuto del suo inconscio ma non sa quale strategia sta applicando per cambiare il contenuto. Attraverso questi video e soprattutto a questo podcast dedicato all'inconscio ti spiego una serie di strategie che puoi applicare in maniera cosciente. Perché molte persone pensano che riprogrammare l'inconscio sia una cosa impossibile ma non è così. Ogni singolo giorno tu cambia il contenuto dell'inconscio. Ora devi solo imparare a riprogrammarlo in maniera positiva e produttiva per te. Ti faccio un altro esempio. Hai riprogrammato il tuo inconscio per quanto riguarda il coronavirus. Nel senso che prima pensavi di poter uscire quando volevi, adesso non puoi uscire più. Benissimo. In questa fase vuol dire che il contenuto del tuo inconscio è stato modificato. E a modificarlo è stata la televisione tramite la ripetizione di una stessa idea proposta in maniere diverse con delle immagini forti. Con delle parole forti. Però quello che loro hanno fatto è stato riprogrammarti usando la paura. Tu puoi riprogrammarti sempre tramite la ripetizione usando un'altra emozione. Ora fatta questa premessa ti voglio ricordare che in realtà le tecniche per riprogrammare l'inconscio, soprattutto quelle molto potenti, non le divulgo gratis. Però in linea generale quello che devi ricordarti è che la mente si divide in mente conscia e mente inconscia. La mente conscia è responsabile dei tuoi pensieri logici, del tuo ragionamento, mentre la parte inconscia non è solo responsabile delle tue azioni ma è anche la sede di tutti i traumi che tu hai preso e soprattutto quelli che hai vissuto quando eri molto piccolo e nel tuo periodo dell'infanzia. Ora il tuo inconscio potrebbe aver assorbito degli input e con il tempo aver sviluppato delle convinzioni limitanti, ma che non sono in realtà tue. Cioè non nascono da te, ma le prendi da altre persone. Per farti capire ti faccio degli esempi. Se i tuoi genitori sono convinti che il miglior modo per guadagnare denaro è essere un lavoratore dipendente, allora anche tu probabilmente hai questa concezione. Il punto è che le altre persone ti influenzano notevolmente, ma andiamo subito al nocciolo della questione. Quindi quali sono queste cinque tecniche efficaci che puoi utilizzare per riprogrammare il tuo inconscio? Partiamo dalla prima. Elimina le influenze negative. Lo so che non la metteresti mai tra le tecniche per riprogrammare il tuo inconscio, ma ti assicuro che è una delle più importanti, in quanto non puoi cercare di riprogrammare il tuo inconscio, magari tramite la ripetizione oppure tramite il fatto che ti isoli per dare determinati ordini al tuo inconscio, se prima non elimini le influenze negative. Quello che voglio dirti è che non ti giova a trovarti di continuo in un luogo che ti trasmette negatività e questo luogo può tranquillamente essere il divano davanti alla televisione. Io ti consiglio di prendere la televisione, di venderla e di reinvestire quei soldi acquistando dei libri, ma se proprio non lo vuoi fare allora prendi la televisione e distruggila, ma se non vuoi fare nemmeno questo allora non accenderla. Però se ti trovi nelle situazioni in cui qualcun altro accende la tv oppure qualcun altro ti passa delle delimitanti e tu ti rendi subito conto che questa persona ti sta influenzando negativamente, quello che devi fare è ripeterti continuamente non è così, non è così, non è così. Puoi ripeterti anche qualcos'altro, però l'importante è che usi una qualsiasi formula, una frase breve per ricordare alla tua parte conscia che non deve accettare queste informazioni. Comunque la cosa fondamentale è quella di frequentare persone che ti migliorano, frequentare persone migliori di te. Quando ti trovi in una stanza tu devi essere la persona che ne sa di meno, allora lì sai che sei nel punto giusto e nel luogo giusto per te. Molte volte quando io mi trovo in determinati posti sono la persona che ne sa di più e questo non mi piace per niente perché devo essere la persona che ne sa di meno. Quando in una stanza tu sei quello che ne sa di più, ti trovi in un posto sbagliato. È meglio se ti dici questo perché così ti spingerai a frequentare persone migliori di te. Il posto in cui devi essere è la stanza in cui ci sono altre persone e tu ne sai di meno. Questo è l'obiettivo da raggiungere. Ovunque ti muovi sei sempre quello che ne sa di meno, ma non perché sei ignorante, ma solo perché le persone di cui ti circondi sono persone straordinarie. Elimina tutte le influenze negative vuol dire che devi smetterla di frequentare persone che non ti migliorano. Se per esempio la tua ragazza non ti migliora non è che devi smettere di frequentarla, però tu devi iniziare a dare degli ordini precisi al tuo inconscio tramite la ripetizione. Quindi guarda film che ti ispirano, leggi libri che ti migliorano e inizia a far intraprendere questo percorso, solo dopo però che avrai raggiunto determinati risultati, anche alle persone che ami, senza imporlo ma semplicemente guidandoli con l'esempio. Quindi tu non dirai minimamente cose del tipo leggi questo libro oppure fai questo, partecipa a questo seminario, ma semplicemente guiderai le persone che ti circondano con l'esempio. Una volta che tu li avrai guidati con l'esempio alcuni ti seguiranno, altri no, però sono liberi di avere una scelta e sono liberi di seguirti oppure no. Mentre prima quando tu vivevi solo nella mediocrità non gli stavi dando un esempio, quindi non avevano molta scelta. La seconda strategia che devi applicare è quella delle visualizzazioni. È una tecnica molto potente per riprogrammare il subconscio, perché la nostra mente lavora per immagini e se tu riesci a concentrarti sulle immagini degli obiettivi che vuoi realizzare, questo aiuta molto ad agire di conseguenza. Il processo che devi seguire è il seguente. Siediti in un luogo calmo dove nessuno può disturbarti, completamente da solo. Dotati di un timer o di uno smartphone che abbia una funzione di conto alla rovescia. Quello che poi devi fare è chiudere gli occhi. Stabilisci l'oggetto della tua visualizzazione, ma stabiliscilo prima. Cosa vuoi visualizzare? Bene, decidilo prima di iniziare. L'importante è che ogni singola sessione di visualizzazione che fai sia concentrata su un unico soggetto e quindi non pensi a 50 obiettivi diversi, ma ad uno soltanto. Devi essere specifico. Quando stai per partire con la visualizzazione, quello che devi andare ad individuare è un qualcosa che farai subito dopo che hai raggiunto quell'obiettivo. Se per esempio è prendere 30 ad un esame, l'immagine che puoi visualizzare è quella di dirlo ai tuoi genitori, piuttosto che se vuoi creare un'azienda è quello di aprire una partita IVA, eccetera. La cosa fondamentale è che tu individui quale sia un episodio che si manifesterà sicuramente quando hai raggiunto quell'obiettivo e lo visualizzi. Quello che devi fare è immaginare sempre lo stesso scenario, per decine e decine di volte, per brevi minuti, magari fissi il timer a 5 minuti e quindi questi 5 minuti ti visualizzi sempre la stessa scena, però aggiungendo ogni volta dei piccoli dettagli. Nel momento in cui finisce la visualizzazione, individua qual è la prima azione, anche la più piccola, che ti avvicina al raggiungimento del tuo obiettivo e fallo, subito. Agisci ora, nel momento in cui è finita la realizzazione, vai e agisci. In questo modo stai addestrando la tua mente a vincere ogni resistenza e facendolo giorno dopo giorno la quantità di obiettivi che raggiungi si triplicherà. L'altra tecnica che puoi utilizzare è quella delle affermazioni positive. L'uso delle affermazioni è una tecnica molto potente. In realtà ce ne sono un paio simili, ma sono molto più potenti, che insegno nelle mie sessioni di coaching. Ma per quanto riguarda le affermazioni positive, usa, mi raccomando, sempre il tempo presente. Non dire quando sarò ricco, oppure un giorno realizzerò quell'obiettivo. Devi parlare al tempo presente. Questa cosa è importante perché la mente ricepisce molto, ma molto meglio, tutte le cose che sono al tempo presente. Quindi le frasi che devi usare sono tipo, sono una persona sicura e di successo, sono una persona che ha un'alta autostima o comunque metti le frasi che vuoi, però al tempo presente. Naturalmente devono essere espresse sempre in positivo. Non usare le negazioni, quindi non dire non sono un fallimento o cose simili. Non usare il non. Semplicemente ti focalizzi su cosa vuoi e ci crei una frase. Un'altra cosa importante è quando applici queste strategie e rilassati completamente. Più riesci a rilassarti e meglio è. Il nostro cervello emana diverse onde cerebrali e ognuna di queste ha una frequenza differente a seconda di quello che stai facendo. Per esempio ci sono le onde gamma che superano i 40 Hz e sono associate ad un'elevata attività mentale. Poi ci sono le onde beta che variano tra i 13 e 39 Hz e si rifanno al pensiero attivo. Poi ci sono le onde alfa dai 7 ai 13 Hz che indicano uno stato di calma e di rilassamento ma in cui sei ancora sveglio. Poi ci sono le onde theta da 4 a 7 Hz che sono associate ad una profonda meditazione e al sonno REM, quindi la fase del sonno in cui fai dei sogni. Poi ci sono le onde delta minori di 4 Hz che sono associate ai sogni profondi ma senza sogni e anche alla perdita della consapevolezza del proprio corpo. Vi sono diverse tecniche di rilassamento ma la cosa fondamentale è riuscire a portare almeno il tuo corpo e la tua mente allo stato alfa, quindi dai 7 ai 13 Hz. In questo stato è molto più semplice riprogrammare il tuo inconscio in quanto quando tu eri piccolo è in uno stato ancora più basso di questo, è nei momenti in cui è stata registrata l'informazione del tuo inconscio. La cosa ideale è riportare la mente nello stesso stato in cui è stato registrato qualcosa. Anche quando la puoi riprogrammare dovresti riportarla sempre nello stesso stato nella quale sono state create la maggior parte delle convinzioni. La maggior parte delle convinzioni vengono create nel periodo dell'infanzia in cui il cervello non ha a disposizione tutte le onde cerebrali che abbiamo visto prima, perché la parte cosciente ancora non è presente, quindi il cervello naviga tranquillamente nelle onde alfa, rilassamento. Puoi tranquillamente ascoltare musica classica. Ci sono altre tecniche tipo il training autogeno che è una tecnica di rilassamento psicofisico che viene usata in ambito clinico per gestire lo stress. Ci sono anche i suoni bineurali, però il metodo che ti consiglio di applicare è di ascoltare musica classica. Perché come è stato dimostrato da diversi studi, la musica classica, soprattutto se messa come sottofondo durante il periodo in cui stai cercando di imparare qualcosa, aumenta le performance del tuo cervello e ti permette di memorizzare prima determinate informazioni. L'altra tecnica, che si può utilizzare per riprogrammare l'inconscio, è l'ipnosi. L'ipnosi ha un piccolo difetto, nel senso che devi trovare una persona che sia disposta ad ipnotizzarti. Certo, se paghi tutti saranno disposti, però devi trovare una persona molto brava. Ma quello che fa l'ipnotista è quello di portarti in uno stato di tranquillità e poi di dare delle suggestioni al tuo inconscio. Esistono anche molte versioni di prodotti che servono per l'autoipnosi. Il migliore è Miracle Mind 5, che ti permette di apprendere qualsiasi cosa in modo terribilmente più veloce. Se sei interessato, trovi il link nella descrizione di questo video. Per quanto riguarda l'ipnosi, dovresti studiare per poterla applicare da solo, ma il consiglio che voglio darti è, se vuoi utilizzare questa modalità, ti conviene andare da una persona molto brava e farti ipnotizzare da lui. Stai tranquillo, l'ipnosi non ha nulla, ma proprio nulla a che vedere con quello che hai visto in televisione. Non succede che perdi coscienza. Sei ancora tranquillamente in grado di fare quello che vuoi. Nessuno può indurti a compiere azioni che normalmente da sveglio non faresti. Stai tranquillo, perché è una tecnica assolutamente utile. Funziona e non ha controindicazioni se la persona che ti ipnotizza è dalla tua parte, nel senso che non ti dà suggestioni inutili o limitanti. E anche se lo facesse, il tuo inconscio non le accetterebbe. E di questo ci sono vari esperimenti. Però questo esula dal contenuto di questo audio. Insomma, è un'altra via che puoi applicare. Queste sono le vie che puoi applicare per riprogrammare il tuo inconscio. Quindi usale.